buongiorno youtube buongiorno e bentornati in un nuovo video l'avventura di oggi ci porta alla scoperta di uno dei torrenti più belli d'italia come ben sapete il lockdown è finito e non c'è veramente modo migliore di poter riscoprire la libertà attraverso un paio di giornate nella natura lontane dalla civiltà e nel massimo della libertà il nostro itinerario parte da questo piccolo paesino che attraverso la sua valle ci accompagna verso le dolomiti friulane e lungo il percorso di questo meraviglioso torrente quindi non ci resta che partire abbiamo appena raggiunto la location adesso iniziamo con l'organizzazione per farci ospitare da questo super paradiso per le prossime 24 ore il percorso di un'organizzazione per farci lascio a voi le parole per descrivere questo capolavoro della natura una vera e propria location caraibica l'unica cosa che la differenzia è che qui la temperatura dell'acqua è veramente veramente fredda lontana da qualsiasi ideale di spiaggia tropicale e adesso non ci resta che armarci di tanta resistenza e prepararci ad esplorare questi fantastici canyon let's go a a Grazie a tutti. Come potete vedere adesso anche il sole ci sta salutando quindi non ci resta che preparare tutto il nostro accampamento per essere pronti a trascorrere una notte veramente veramente wild. Buongiorno mondo! Termina qui la nostra avventura di questo weekend in mezzo alla natura che come sempre ha saputo veramente ripagarci con il massimo della soddisfazione quindi vi aspettiamo sul canale. Un abbraccio da Luca e dalla mia mitica compagna di avventure. Ciao al prossimo video! Ciao ciao!